Ancora buon pomeriggio, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un tamponamento, rallentamenti per questo incidente avvenuto in A1 tra il Bivia 1, variante di Valico e Sassomarconi, la direzione è quella per Bologna. Rallentamenti personale su strada anche in direzione Roma, sempre in A1 tra Valdarno ed Arezzo. Rallentamenti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello, anche qui in direzione di Roma per un veicolo in avaria. Veniamo alla A11, rallentamenti tra il Bivio A11, l'accordo A12, Genova Rosignano e il Bivia A11, Lucca Viareggio in direzione Firenze. Ricordo stanotte in A1 lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 e quindi sarà chiuso lo svincolo di Incisa Reggello in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.